3, 2, 1, a bellina! Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Marvel United X-Men, gioco dell'Akmon, in questa edizione che vedete qui davanti, italiana, a cura di Asmod Italia, che io come sempre ringrazio di cuore per la copia fornita ed è sempre un immenso piacere poter collaborare con voi. Si parla di un gioco cooperativo, si parla di un gioco molto veloce e si parla anche di una gattina piccola, una Maine Coon, chiamata Morrigan, che non ci permette più di fare i video perché se la rinchiudiamo fuori si mette a piangere, però penso che sia anche bellina da vedere nel video. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Marvel United, come detto poc'anzi gioco in edizione italiana a cura di Asmod Italia, è un gioco cooperativo, come riporta la scatola, da 1 a 5 giocatori dai 10 anni in su, anche perché è un gioco particolarmente semplice come regole, quindi qui davvero ci potete mettere a giocare anche un bambino, ed è un gioco veramente carino e interessante, ma anche le, io tanto so che starete guardando la gattina, anche le miniature degli stessi X-Men e dei Villain, tipo Magneto, Mystica e gli altri che ci sono all'interno, sono fatti in versione super deformed, quindi sono molto cartuneschi, tipo col testone grande, non c'è il concetto di violenza, ecco qua dentro. Quindi è un gioco anche a livello di background ed ambientazione, alla portata di tutti e anche dei più piccoli. Come vedete anche la scatola è ricca di contenuto perché abbiamo le carte, crisi, comunque le carte che deve utilizzare il Villain, le carte che devono utilizzare i personaggi, gli eroi, quindi gli X-Men, e abbiamo un po' di contenuto all'interno come tantissimi token, se la fai a stare ferma cortesemente, tantissimi token e un comparto miniature veramente bellissime che poi sono, non sono gli sgherri, quelle sono rappresentate a loro volta da dei token, però abbiamo gli eroi, gli X-Men e abbiamo dall'altra parte i Villain. Le regole sono semplicissime in cui dovremmo spostare i nostri eroi di tot caselle a seconda della carta che abbiamo giocato perché ciascun eroe avrà il proprio mazzo di carte, quindi magari Wolverine avrà il suo, Ciclopro avrà il suo, ed è molto interessante il sistema perché voi dovete pescare e giocare una delle carte che avete in mano e quando la giocate fate quello che c'è scritto sulla carta. Magari la carta dice di quanto vi potete spostare, ovviamente i segnalini, i movimento che ci sono scritti sopra, se potete attaccare o fare un'azione speciale, ma andate a prendere anche la carta subito prima della vostra perché le carte messe in sequenza da sinistra a destra fanno una storia, quindi se quella di prima era la carta di Storm, di Tempesta, che diceva un movimento, un attacco e la vostra dice due movimenti, andando a sommarla la carta prima farete un attacco e tre movimenti, quindi vi potete muovere i tre caselle sulla mappa e fare un attacco. Si vince la partita, bisogna completare due delle tre missioni presenti che sono ad esempio sconfiggere gli sgherri, salvare la gente, mettere sotto controllo i territori e quant'altro e per sconfiggere gli sgherri si va a vedere i token degli sgherri che sono presenti in una zona e se abbiamo dei simboli di attacco sulle carte, ciascun attacco toglie uno sgherro o nel caso di un mini boss, quindi un braccio destro del cattivone finale, che ne so, di Magneto, ha tot punti ferita e ogni attacco gli leva un punto ferita. Se arriva alla fase finale a combattere contro il boss, quando abbiamo completato due delle tre missioni presenti, quindi magari abbiamo combattuto tutti gli sgherri, completamente piena le caselle della missione degli sgherri e abbiamo salvato tutte le persone, si può passare alla fase finale dove si andrà a combattere direttamente il boss. A fine turno dei giocatori il boss fa le sue mosse, pesca una carta boss e fa semplicemente le azioni che ci sono segnate che magari a seconda del posto dove si muove o se un simbolo attiva una sua abilità speciale potrà essere meno forte, più insidioso oppure meno contro gli X-Men e gli eroi che l'andranno a fronteggiare. Il gioco è veramente molto semplice e il regolamento si spiega in cinque pagine. In conclusione, X-Men Marvel United è un gioco, secondo me, anche questo alla portata di tutti. Sì, magari per chi cerca un contenuto un po' più di sfida o serio, questo è più un prodotto pensato per tutti. Ecco la gattina. Non è pensato per i ragazzini, è pensato per gli amanti dei fumetti, per gli amanti della Marvel, in questo caso degli X-Men, ma anche per i ragazzini perché magari anche le miniature super deforme insomma richiamano un po' un gusto un pochino più semplicistico, divertente appunto dove tutti quanti ci possiamo un pochino ambientare. Le regole sono semplici, si gioca tutti insieme, si vince o si perde tutti insieme, quindi è anche un gioco socialmente corretto perché bisogna fare squadra e gruppo, se uno fallisce tutte le sue mosse fa perdere la squadra, quindi anche impegno della squadra, coordinarsi e parlarsi al tavolino ed è un titolo veramente fresco, veloce e interessante, come ho detto, dai dieci anni in su. Io ringrazio di cuore la Asmo d'Italia per avermi offerto questa copia per la recensione, assolutamente non ve lo fate scappare. Come sempre, se lo volete ordinare, primo link in descrizione, in sovraimpressione, dalla GiocoLibreriaSimola, nostro negozio sponsor, non soltanto al miglior prezzo sul mercato, ma se andate sul sito e dicitate Marvel United, bollino rosso, quindi prodotto finito, scorte finite e magazzino, oppure proprio Marvel United e non risulta, non c'è nel catalogo, mandate una mail al supporto, a Corrado, al proprietario della GiocoLibreriaSimola, e fate presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan, intanto la gatta che muove la telecamera, vivendo anche lei con pesa nel prezzo, e fate presente che arrivate dal mio canale, che il gioco non sia presente o che sia finito, se è reperibile, lui farà il possibile per trovarvelo e usate sempre il codice discount Coridan7, al momento dell'acquisto cliccate sul discount in alto a destra, Coridan7, e avrete uno sconto del 7%, per spese superiori, totali, di 79€, spese postali, gratuite in tutta Europa, ordinate dalla Germania, in 48 ore vi arriva a casa, quindi GiocoLibreriaSimola è sempre un servizio eccellente, e non mancate di farci una visita regolarmente, perché a parte lo sconto, vi ordina roba anche che non ha più in catalogo, o che non ha mai avuto, quindi fate voi che può poi di servizio. Ancora grazie Asmod Italia, e dateci un'occhiata, molto interessante. Ciao ragazzi, alla prossima! Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita. Primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di Live Twitch, alla mia pagina Instagram e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate, e su Twitch man a mano troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno, quindi guardatela sempre, perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata. Mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social, perché sono sempre aggiornati, e se devo comunicare qualcosa, anche per il canale YouTube, lo troverete sempre lì. Ciao, alla prossima!